Il cronometro così non sgarro e dunque il tema della pandemia abbiamo visto affrontare in modi molto diversi. Quello di cui voglio parlare brevemente è il livello secondo me molto basso della discussione pubblica su questo tema. In generale il livello della discussione pubblica anche di quella intellettuale si è abbassato negli ultimi decenni per varie ragioni ma qui quando abbiamo toccato non solo in Italia questo tipo di discussioni purtroppo siamo andati ancora più in basso. Un paio di premesse e due autori fondamentali che secondo me vanno un po' ripensati nelle loro formazioni fondamentali per capire che cosa sta succedendo. E poi un terzo autore che invece ci dice qualcosa di direttamente rilevante. I due autori di cui voglio brevemente dire sono due minori, cioè Cartesio e Kant. Il punto fondamentale della visione di Cartesio è che ha una visione gerarchica della mente. C'è, al di là della distinzione res cogitans e res extensa, all'interno della mente c'è il pensiero cosciente e razionale che in sé ci permetterebbe sempre di tendere al vero e al buono e poi ci sono le passioni e le emozioni che in qualche modo, riprendendo una parola già usata, perturbano. Questa visione è stata molto comune e fino a tempi recenti in parte ancora qualcuno la difende però è sbagliata per varie ragioni. La prima è che proprio la distinzione tra conscio e inconscio, tra ciò che è razionale e ciò che è emotivo, passionale, inconscio, è stata completamente scardinata. Prima da, prima per la verità dalla Ivenis, da Baumgarten, ma poi da Freud e oggi dalle scienze cognitive. Non c'è qualcosa che è chiaramente cosciente e qualcosa che è chiaramente inconscio, non ci sono la pura razionalità o le pure emozioni. La verità è che c'è un'interazione continua tra queste diverse dimensioni e quindi dire, ridurre i nostri errori al fatto che la razionalità non si può puramente espletare, qualcosa che non funziona bene. Non vi è razionalità, non vi è nemmeno la moralità senza le emozioni, ma non è neanche vero, come dicono molti riduzionismi oggi, che tutto si riduca alle emozioni. I due piani esistono, ma interagiscono continuamente. Primo punto per capire il problema. Questa interazione continua di emozioni e ragioni, mettendola in modo semplice. Secondo punto, secondo punto, Kant, il passo celeberrimo sull'illuminismo. Minorità è l'incapacità di valersi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Imputabile a se stesso? A se stesso è questa minorità se la causa di essa non dipende da difetto di intelligenza, in quel caso facile, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di far uso del proprio intelletto senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. Non sto citando questo passo celeberrimo di Kant per dire che è sbagliato. Lo sto citando per dire che oggi sappiamo che la cosa è ancora più difficile di quanto pensasse Kant. Kant pensava che siamo un legno storto in campo morale, ma anche in campo epistemologico. Siamo più storto di quello che pensava Kant e pensando solo al piano epistemologico facciamo molti più errori. Cioè l'idea di poter guidare errori sia nel capire, sia nel decidere cosa fare, sia nel comprendere ciò che accade, sia nel decidere cosa fare. Per questo il terzo autore che voglio citare, un altro colosso, è Aristotele. Aristotele negli elenchi sofistici ha studiato accuratamente le fallace argomentative. Aristotele ha studiato direttamente gli errori che tutti noi, chi più chi meno, facciamo nel ragionare. Lui ha distritto lo sappiamo tra le fallace in diczione e quelle extradiczione, cioè quelle linguistiche, tipo il fatto che si equivocca su termini sinonimi o che si usa una parola quando significa due cose diverse, come se fossero le stesse cose, eccetera, ed extradiczione, cioè quelle che riguardano invece le fallace che riguardano proprio ragionamenti sbagliati. Ecco, oggi sappiamo che noi ragioniamo in modo tendenzialmente molto scorretto. Compiamo un sacco di fallace, alcune intenzionalmente, più spesso non intenzionalmente, involontariamente. E credo che sia compito di noi filosofi, che in fondo conosciamo un po' di queste cose più della media, insegnarlo anche ai nostri studenti, io lo faccio spesso, di far vedere come ragionamenti che fanno presa nel campo politico, nel campo della discussione pubblica, sono spesso e volentieri errati, sono delle fallace. Adesso io brevemente parlerò di alcune fallace che si sono ritrovate nella discussione pubblica sulla pandemia e secondo me è un discorso che si può ripetere agli studenti quando lo faccio incontro a un certo favore, perché è un modo di imparare a difendersi dall'irrazionalità dominante o dal fatto che spesso intenzionalmente o anche non intenzionalmente veniamo, come dire, imbrogliati da chi governa, da chi partecipa, chi decide per noi, ma anche da noi stessi quando sbagliamo a ragionare. Aristotele parla di fallace, che sono errori nel ragionamento, poi in conclusione parlerò dei bias cognitivi. I bias cognitivi sono tendenze che si legano alle fallace, le fallace sono errori nel ragionamento e molto spesso queste fallace dipendono da tendenze psicologiche inconsce, molto persistenti, che compromettono le nostre valutazioni e le nostre decisioni, perché, e questo anche Freud un po' l'aveva studiato, oggi siamo ancora più avanti, in qualche modo ci impediscono di vedere il mondo com'è, di ragionare in modo corretto, proprio perché costantemente ci portano nella direzione sbagliata. Allora cominciamo dalle fallace però, vabbè una è ovvia, è la fallace, Aristotele ne parla, è la fallace dell'implicazione, se io dico che se A allora B, è sbagliato dire che se non A allora non B, non segue, è un errore, ed è anche sbagliato dire che se A allora B, è anche vero che se B allora A, non segue di nuovo. L'unica cosa che si può inferire da se A allora B, è che se è non B allora non A. Questa è l'unica conseguenza logica che si può trarre, ma spessissimo anche nei dibattiti, per esempio nei talk show, si sentono fallace dell'implicazione, comunissimo. Altra cosa di cui parla Aristotele, la falsa causa, cioè post hoc propter hoc, questo è un errore comunissimo. Nel dibattito sulla pandemia, per esempio, è usata dai negazionisti quando dicono che le mascherine fanno male. Gli è venuto un attacco di cuore, portava la mascherina e colpa della mascherina, tipico errore. Sì, portava la mascherina, ma l'attacco di cuore ha un'altra causa. Poi, altra fallaccia, falsa autorità, questo è qualcosa di molto sottile. Spesso siamo ingannati da qualcuno che in verità non è un'autorità legittima, ma che viene presentata come tale, per esempio nelle pubblicità quando dicono i medici, oppure quando dice questo ha vinto il premio tot e tot, oppure questo è garantito dall'associazione tot e tot, in verità noi istintivamente ci fidiamo, ma non sappiamo nulla se queste sono cose legittime. C'è un caso, per esempio, nel dibattito pubblico, questo famoso virologo, non dirò il nome, anche perché francamente non me lo ricordo, che parla alla pari con altri, viene presentato in trasmissioni televisive come un virologo pari agli altri, ma se voi andate a vedere, è laureato in virologia, ma è un ciarlatano, è uno che dice che lui è stato candidato al premio Nobel. Se andate a vedere, è veramente un ciarlatano, andate su Wikipedia e leggetevi la pagina di questo signore, lo trovate con un po' di ricerche, appare spesso in televisione, però si autopresenta come virologo con tesi assurde, però difese perché lui è un'autorità. Gli altri virologi gli dicono, ma tu non puoi dire queste cose, però il pubblico che deve pensare. Gli scienziati sono in disaccordo e l'unico problema è che uno non è legittimo e l'altro è legittimo. Uno è completamente fuori dalla comunità, si presenta come un grande virologo e non lo è, nessun giornalista lo smentisce quando lo invitano, che dimostra pure che il livello del giornalismo italiano è basso e quindi le persone pensano, vabbè, sentite, gli scienziati sono in disaccordo, lasciamoli perdere. Conclusione. Un'altra viene chiamata spiritosamente la fallacia del nirvana, cioè quando tu hai un problema e proponi una soluzione, c'è qualche bello spirito che ti dice, guarda che c'è questa conseguenza negativa, una conseguenza negativa e dunque la soluzione non va bene. Non si ragiona così, bisogna vedere tra le soluzioni possibili, quella che va meglio. È ovvio che tutte le soluzioni hanno un problema, si fa sempre così sulle riforme universitarie. Qualcuno ripropone una riforma universitaria, genere terrificanti, però ogni tanto ce n'è uno buona, una buona, è uno che dice, ah ma così se Wittgenstein volesse diventare professore non potrebbe, perché sapete Wittgenstein ha pubblicato una cosa sola e quindi non diventerebbe professore. Con questo sistema diventa una professore gente che non ha fatto mai niente in vita sua. Insomma, la fallacia del nirvana è bisogna trovare soluzioni plausibili, non soluzioni perfette. Questo non è il nirvana. Altra cosa ovvia è il petizio, la petizio principi o principi come dicono, dicono che si dica e c'è l'idea che tu fai una bella argomentazione in cui sostanzialmente assumi quello che devi dimostrare. Cosa comunissima, soprattutto tra i più attenti, cioè i più ortodossi fautori delle cospiracy theories. In generale dimostrano e alla fine ti accorgi che hanno dimostrato assumendo quello che dovevano dimostrare. E questo è molto utile con i ragazzi far vedere degli esempi, io non ho tempo. Altra cosa, le generalizzazioni affrettate. Questo è molto delicato, perché per esempio i novax, cioè quelli che dicono non che alcuni vaccini possono essere pericolosi o che, come è capitato con il vaccino dell'antipole, a un certo punto bisogna smettere di vaccinarsi, perché non ce n'è più bisogno e i vaccini hanno anche alcune controindicazioni. No, quelli che dicono che i vaccini fanno male. L'argomento è così, tu fai un milione di, metti vaccini un milione di persone, cinque moriranno come conseguenza del vaccino. Quindi i vaccini fanno male e non vanno fatti. Questa è una generazione, generalizzazione affrettata, detta così, ci possono essere altre ragioni, i numeri possono essere diversi, ma generalmente sono questi i numeri, per esempio sull'antitetanica o su, o sulla trivalente, eccetera. Questi sono i numeri. La verità è che per quelle cinque persone che purtroppo ci lasciano, ce ne sono altre centinaia che non ci lasciano perché sono vaccinate. E noi questo però non possiamo vederlo, non si vedono le persone che non ci lasciano, ovviamente, si vedono solo quelle che ci lasciano, ma se uno non fa un minimo di ragionamento non riesce a capirlo. Idem funziona con le cinture di sicurezza, no? Le cinture di sicurezza sono pericolose, per cui qualcuno ci muore, quindi non bisogna mettere, sì va bene, ma molti più si salvano. Idem per le mascherine. Qualcuno può avere un qualche problema, ma le mascherine in generale fanno bene. Il problema è sempre comparare casi diversi, cioè quelli che ne siano giovani e quelli che non siano giovani. Un altro caso è quello proprio della ipersimplificazione causale. Quando fenomeni complessi si riportano a soluzioni semplici, tipo mettersi le mascherine è un caso di paternalismo che lede la libertà delle persone. In parte lede la libertà delle persone, ma non è un caso di paternalismo, perché il caso di paternalismo è quando lo Stato interviene a vietare a un individuo una pratica che non ha conseguenze sugli altri. Uno si vuole obbligare in modo smodato e se ne sta a casa sua e non esce, lo faccia. Se uno vuole girare senza mascherina è un pericolo pubblico. Una signora diceva, a me non mi interessa se tu mi attacchi il virus, quindi non me la metto, però a me mi interessa se tu me la attacchi. Non l'aveva visto così questa signora. Era l'altro giorno su Repubblica, credo, un video. Infine l'ultimo che voglio citare è bellissimo. L'altro giorno ero per strada e mi diceva, ma certo che c'è il virus, però tanto a me se me tocca, me tocca. Quindi che me la metta a fare la mascherina? Questo argomento è bellissimo, perché si ritrova in tante parti della nostra vita. Gente che non segue pratiche di prudenza minime perché tanto se me tocca, me tocca. Quale che visione c'è sullo sfondo di questa idea? C'è la visione che il mondo è determinato in modo molto bizzarro. Cioè che se io mi metto la cintura, morirò comunque. Non mi serve, perché tanto è predestinato che io debba morire. Ma perché? Dov'è? Chi lo dice? Quale legge fisica mi dice questa cosa qua? Quale ipotesi di mondo mi dice che? Tanto se me la metto o non me la metto, muoio allo stesso modo. misteri, però molto comune. Veniamo brevemente ai bias cognitivi. Questi sono atteggiamenti psicologici un po' paralizzanti, sono dei pregiudizi diciamo. Il primo è quello della bolla di Facebook, il bias conformistico, che fu studiato già dal famoso psicologo Ash, che fece fare questo esperimento. Lui faceva vedere a delle persone delle linee, una più lunga delle altre e due vagamente, insomma erano tre diverse, però due erano un po' meno diverse della terza. E poi diceva alle persone, dire, ci sono due linee uguali o no? Il problema è che c'era un solo soggetto, gli altri erano attori. Gli attori a un certo punto cominciavano a mentire, dicendo che quelle due righe erano uguali, quando erano ovviamente diverse. Beh, c'è una percentuale di persone che si autoconvinceva di vedere male. Se tutti dicono che due linee sono uguali, sono uguali, sono io che in questo momento sono un po' stordito e quindi dicevano che erano uguali, lo dicevano anche loro. Questo è stato provato tante volte. Ed è l'effetto della bolla di Facebook. Se tu c'è tutte le persone che la pensano come te, ti confermano, ti mettono in un certo mindset, tu alla fine penserai esattamente come loro. È quello che succede nelle sette, nel meccanismo delle sette naturalmente. Poi ci sta il bias della conferma. Cioè l'idea è che tu, questo è un atteggiamento di cui possiamo essere vittime tutti. Ognuno tende a vedere, ognuno ha le proprie teorie, per esempio sulla pandemia, e le vede confermate quali che siano e quali che siano i dati che analizza. Cioè noi tendiamo a interpretare le statistiche in modo che confermino quello che noi già crediamo. È molto difficile staccarsi dalle proprie teorie e poi è uno sforzo che bisogna imparare a fare. Se voi vedete quelli che dicono che il lockdown non serve a niente e quelli che dicono che serve a tanto, qualunque statistica vedano, sono comunque fermi sulle loro posizioni. E questo non va. Ma è un effetto di un bias, il bias della conferma delle proprie ipotesi. E poi gli ultimi due che sono molto belli. L'effetto della sovrastima personale. Cioè ci sono statistiche per esempio, si chiede alle persone se si ritene che loro, ognuno a cui si chiede, sia più intelligente della media. L'80% pensa di essere più intelligente della media. E ovviamente non è possibile perché solo il 50, una persona è più intelligente della media. Qui c'è un 30% che lo pensa in modo sbagliato. E questa ha una conseguenza molto bella. L'effetto, bella e terribile, l'effetto Dunning-Kruger, o Dunning-Kruger, scusate perché americano. Funziona così. La sovrastima personale è inversamente proporzionale all'incompetenza. più uno è incompetente in un campo e più pensa di capirne. E questa è una cosa che succede moltissimo. Umberto Ego quando diceva la rete ha democratizzato tutto e a me mi tocca parlare di semiotica con un imbecille, un termine idiota così, un po' forte, che non ne sa nulla. Perché lui si pensa di saperne quanto me, proprio perché non ne sa nulla. è l'effetto Dunning-Kruger. Guardate che anche gli scienziati possono esserne, anche gli esperti possono essere, anche i filosofi possono essere vittime di questo effetto. Perché? Beh perché pensate alla discussione sui dati del coronavirus. Li analizzano i virologi, i microbiologi da una parte e gli epidemiologi dall'altra. Sono due famiglie molto diverse perché gli epidemiologi, i virologi sono dei medici, dei biologi. Invece gli epidemiologi sono degli statistici. Cioè utilizzano i metodi della statistica, non quelli della medicina, della biologia. Quindi chiedere un'opinione sulla virologia all'epidemiologo o viceversa un'opinione sull'epidemia a un virologo, si fanno errori grossi perché non sono esperti. Però siccome c'è l'effetto Dunning-Kruger si credono esperti. Francamente credo che questo sia stato il problema di Zangrillo. Lui è un medico e ha detto la sua sull'epidemia. Senza capire esattamente, in buona fede, lui non vedeva più malati gravi, ma non sapeva che cosa succedeva con l'epidemia. Un epidemiologo importante italiano, Vespignani, che sta all'estero, nello stesso tempo analizzava l'epidemia e dice guardate che questa è in crescita in tutto il mondo, studiava le curve, non capiva niente dal punto di vista biologico, ma capiva tutto dal punto di vista epidemiologico. Quindi qual è il punto? Il punto è che bisogna contemperare quello che i diversi esperti dicono nei rispettivi campi, tenendo presente la posizione di tutti nei rispettivi campi, perché un esperto che esce dal suo campo non è più esperto. Questo bisogna saperlo con molta chiarezza. D'accordo? Ciò detto, non è che poi gli esperti, non si può ignorare l'opinione degli esperti, ma non si può neanche lasciare tutto agli esperti. Naturalmente i meccanismi democratici devono servire, teoricamente anche la politica, a valutare ciò che è giusto fare tenendo presente altre esigenze, l'economia, i rapporti umani, eccetera. Però tenendo presente che il nostro modo di ragionare è profondamente fallace e che ognuno di noi dovrebbe fare molta attenzione a come ragiona o quando dà l'assenso a ragionamenti altrui, perché spesso e volentieri sono sbagliati. Quindi la conclusione è che per quanto ne dicessero Kant e quello che diceva Cartesio Cartesio purtroppo non funziona per nulla, non è vero che c'è questa idea, è un grande progetto ma è fallito. Quello che diceva Kant era giusto, ma lo sforzo per liberarsi dalla minorità è molto più terribile di quello che si pensava. Chiuderò citando solo un grande pensatore italiano, sottostimato, Ernesto De Martino. Quello che ha fatto Ernesto De Martino è far vedere proprio come questi meccanismi di riflessione, come dire, qualcosa che ci condiziona. E sempre per esempio, lui parlava della crisi della presenza, quando ci sfugge il controllo su noi stessi, questi meccanismi inconsci, formidabili che ci possono portare appunto a perdere il controllo di noi stessi. Ecco, questo è pervasivo e quindi l'idea che io o tu o noi o loro abbiano necessariamente ragione quando sembrano aver ragione, non è così ovvia. Bisogna vigilare, vigilare, vigilare e io penso che il compito di noi filosofi, docenti, sia di aiutare i nostri studenti a capirlo. Grazie. 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 Grazie.